La partita, l'andamento e secondo te cosa ha fatto la differenza oggi? Sicuramente come ha detto lui in controattacco, loro sono stati più incisivi, sapevamo che era una squadra che difendeva molto, non abbiamo avuto la pazienza e appunto si fanno in controattacco. Noi abbiamo giocato molto preparato, per quanto riguarda me, tirato dritto per dritto in certe situazioni che non si fanno le partite, quindi in merito a Novara noi cercheremo di fare il nostro. C'è stata una lunga serie di vittorie per voi, interrotte in queste due ultime settimane in Coppa Italia e poi oggi si può comunque ripartire per la consapevolezza di essere una delle squadre più forti del campionato? Sicuramente è andata bene, non dobbiamo assolutamente pensare negativo, ma dobbiamo pensare avanti, pensare comunque siamo su e siamo su perché l'abbiamo dimostrato che possiamo stare in alto e adesso c'è solo da rinvocarsi le maniche, come abbiamo sempre fatto ogni giorno in palestra e cercare nel momento in cui c'è da essere più incisive di essere ancora di più. Avete delle domande da Francesca? No, perché ascolti l'uomo prevedibile, mi sembra succede che l'uomo prevedibile. Infatti l'ho detto prima, che ho giocato con i paraocchi, non è da me, mi diverto a giocare più sporco, più... e non l'ho fatto. Grazie.